Marco Baccini è un imprenditore che vive, penso anche quotidianamente, quello che può essere l'importanza del ruolo della bilateralità, per le imprese e per i lavoratori che riferiscono. Assolutamente sì, soprattutto per i lavoratori, in un momento in cui secondo me il vero capitale di capitale sociale, quindi la persona, è assolutamente necessaria la formazione, con la bilateralità si ha tutta una serie di vantaggi, di termini, di costruzione di un percorso professionale, di una specificità del lavoratore che per un imprenditore non può che essere una vera ricchezza. Quindi la bilateralità è uno strumento utile per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori ma allo stesso tempo anche della competitività delle imprese? Sì, assolutamente, perché magari si riesce, tra che dovete risparmiare un qualche cosa economicamente per quello che riguarda il nostro lavoratore, ma il lavoratore acquisisce le competenze che sono una vera ricchezza per il dipenditore. Marco Baccini, grazie mille, a presto. Grazie a presto. Grazie a presto.